Benvenuti su Global Mystery Investigation, l'organizzazione con l'obiettivo di trovare risposte alle ultime grandi domande dell'umanità. Il Natale, un momento di amore, speranza e riflessione. Ancora oggi la storia del Natale è ricca di fenomeni misteriosi e voi state per svelare uno di questi misteri. Abbiamo trovato una mappa del tesoro a tema natalizio. I suoi enigmi portano un tesoro dal valore incommensurabile. Ma attenzione, non sarete gli unici a cercarlo. Seguite gli indizi, risolvete gli enigmi e svelate il mistero dietro il tesoro di Natale. Buona fortuna!